L'Emilia Romagna, tipo Sicilia, ma quando si c'è, avete portato il cannolo? C'è? Insomma, andiamo un po' più su Garapalle e Laosta, non mi dire che sei Garapalle e Laosta. Beh insomma che stasera il pubblico va riegato, va riegato, hai preparato qualcosa lì? Non è mio il fix, quindi vuole qualsiasi cosa. Bene, mi ricordo sempre.